Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sono stato un po' assente sul canale per via dei miei impegni con il lavoro ed oggi vi voglio portare un piccolo tutorial su uno degli ultimi lavori che ho realizzato una piccola collaborazione fatta con i Pantellas il video di cui stiamo parlando ve lo leggo nella descrizione vi metto il link nella descrizione così potete guardarlo vi spiego come ho dovuto lavorare per questo video i tempi erano molto brevi, molto stretti quindi le cose andavano fatte velocemente, consegnate subito quindi quello che ho dovuto fare è stato trovare degli escamotage per rendere l'idea naturalmente del video in sé di quello che mi veniva chiesto di realizzare trovare degli escamotage per farli molto velocemente ho potuto lavorare soltanto due notti a quello che è questo progetto quindi a tutte le inquadrature con i vari effetti presenti all'interno di questo video è stato divertente perché naturalmente quando si realizzano effetti visivi bisogna partire naturalmente da una base artistica se parliamo di una comedy come sono i video che realizzano i Pantellas bisognava che tutto fosse molto amplificato quindi la base di partenza è che qualsiasi cosa si facesse dovrebbe essere amplificato e questo vale per la maggior parte degli effetti che ho realizzato uno di quelli là di cui ne ho fatti di più di questo video è aggiungere i Muscle Flash ossia il colpo dell'arma da fuoco e in questo tutorial vediamo come si realizza velocemente un effetto del genere quindi aggiungere un colpo d'arma da fuoco ad un video abbiamo in questa clip il buon Jacopo che spara ad un malvivente come vedete quando è stata girata la scena naturalmente è stato simulato il colpo di un'arma da fuoco in post produzione va trovato il momento preciso in cui dovrebbe partire il colpo ed aggiungerlo come si aggiunge? prima di tutto dobbiamo avere il colpo il famoso Muscle Flash cioè la flashata dell'arma da fuoco esistono tantissime librerie online io ho una libreria e ho utilizzato un Muscle Flash un di stock che avevo già pronto ve ne potrei indicare tantissimi esiste l'Action Essential di Videocopilot se cercate sul web ce ne sono tantissime altre oppure potete addirittura crearlo con un software di grafica 3D anche molto più complesso di questo questa naturalmente è una ripresa è una ripresa creata appositamente per essere inserita in una libreria detto questo passiamo subito al tutorial quindi abbiamo detto che abbiamo il nostro shot cosa dobbiamo fare? prima di tutto dobbiamo andare a creare un oggetto nullo e tracciare il movimento della nostra canna quindi il punto da dove partire il colpo prima di tutto dobbiamo identificare il momento in cui lui sparerà diciamo che sia questo qui perché subito dopo ha il contro a colpo quindi definiamo che questo sarà il punto in cui lui sparerà d'accordo? allora il Muscle Flash normalmente come vi mostro in questo caso dura soltanto un fotogramma in alcuni casi dura due fotogrammi d'accordo? la flashata reale allora noi cosa dobbiamo fare? poi dopo come vedete c'è fumo c'è un po' di fumo si vede poco vediamo un pochino se in trasparenza si vede no, non si vede cosa dobbiamo fare? in teoria potremmo tranquillamente andare ad applicare il nostro colpo in questo punto qui diciamo qui potremmo andare ad applicare il nostro colpo in questa posizione ma risulta leggermente finto perché? perché il colpo realmente non segue la pistola cosa significa? la pistola come vedete dato il forte movimento ha una scia ha un effetto motion blur d'accordo? quello che dobbiamo andare a fare è ricreare la stessa scia sul nostro colpo come possiamo fare questo? tracciando come dicevo prima la canna della pistola da un paio di fotogrammi prima che il colpo venga esploso diciamo che il colpo non lo vogliamo esplodere lì lo vogliamo esplodere un po' prima facciamo ah no ma qui è perfetto come vedete il mazzo flash in questo caso dura due fotogrammi forse ho errato io prima quando ve l'ho mostrato dura il primo ed il secondo d'accordo? per questo quando durante il secondo fotogramma la pistola si move ma il mazzo flash rimane in quel punto lì quindi quello che dobbiamo andare a fare è semplicemente tracciare la nostra canna quindi disattiviamo un attimo il nostro mazzo flash prendiamo il nostro oggetto nullo questa operazione può essere fatta direttamente con il mazzo flash io preferisco sempre utilizzare per il tracciamento un oggetto separato e poi agganciare successivamente il in questo caso un elemento ma potrebbe essere il caso in cui dobbiamo agganciarci più elementi e quindi è comodo avere un punto di riferimento allora lo coloro ci do un colore molto forte che mi risulta anche a schermo ecco un bel verde allora il tracciamento in questo caso lo farò a mano perché parliamo di 5, 6, 7 fotogrammi quindi una cosa che si può fare a mano e non c'è bisogno di andarlo a tracciare farlo tracciare ad after effect quindi clicchiamo più sulla tastiera si aprirà la voce di posizione andiamo a creare il primo keyframe lo mettiamo sulla canna andiamo avanti andiamo indietro in questo caso di un paio di fotogrammi di uno alla volta e andiamo a tracciare ho errato andiamo a spostarci quindi a creare i fotogrammi della posizione della nostra canna andiamo avanti ancora per 2-3 fotogrammi diciamo che la canna sia qui anche se con l'effetto motion boom non si vede andiamo avanti siamo sopra e qui possiamo fermarci perché siamo arrivati sopra l'inquadratura quindi qualsiasi altro elemento potevamo aggiungere non serve più quindi prendiamo sia il nostro oggetto nullo lo tagliamo di netto con maiuscolo ctrl e d su windows invece maiuscolo mela d su mac facciamo la stessa operazione del nostro mouse of flash così non rimaniamo elementi in scena che non ci interessano per buona organizzazione ci coloriamo anche di verde il nostro mouse of flash così in timeline sappiamo esattamente quali sono i nostri elementi che stiamo utilizzando e in questo momento andiamo a collegare il mouse of flash già prima che avevamo già sistemato in posizione precedentemente al nostro oggetto nullo adesso come vedete il colpo viene esploso il colpo segue la pistola e poi naturalmente scompare perché c'è un po' di fumo nell'oggetto della libreria che ho a disposizione d'accordo e poi qui scompare perché siamo sopra la testa dell'inquadratura ma come potete vedere il colpo anche se segue la canna è ancora leggermente irreale parecchio irreale quindi cosa possiamo fare perché ho tracciato due fotogrammi prima perché facendo in questo modo quando attiveremo il motion blur sulla scena verrà applicato il motion blur da movimento non solo al secondo fotogramma ma anche al primo vi spiego meglio se avessi tracciato dal primo punto in poi ok quindi da questo punto qua in poi il motion blur in questo punto sarebbe stato molto molto lieve se io invece ci aggiungo i fotogrammi precedenti anche uno bastava io ne ho calcolato i due aggiunge molto più motion blur perché segue realmente la pistola così nel primo così nel secondo come potete vedere adesso il muzzle flash segue anche il movimento della pistola che noi in teoria potremmo andare anche a correggere selezionando il nostro oggetto nullo perché secondo me va un pochino più in qui ecco qui facendo in questo modo qua possiamo disattivare l'oggetto nullo non ci serve vederlo andando a far play il muzzle flash è molto ma molto più reale adesso altri accorgimenti quando viene esploso un colpo di arma da fuoco naturalmente questa è una fiammata che possiamo anche fare più grande possiamo andarla a scalare leggermente la posizioniamo un po' meglio e mette luce d'accordo e ci sono delle zone del corpo che vengono illuminate specialmente poi quando dobbiamo aumentare la drammaturgia di un'inquadratura noi possiamo aggiungere un livello di regolazione lo coloriamo per avere tutto ben visibile in timeline e lo utilizziamo per soltanto due fotogrammi cioè il tempo che il tempo del muzzle flash quindi della fiammata e cosa dobbiamo andare a fare andare ad illuminare gli elementi che si illuminerebbero di luce propria quindi che riceverebbero la luce della fiammata durante lo sparo che sono questa zona qui delle mani quindi andiamo a creare una semplice maschera possiamo anche esagerare un pochino nella zona che utilizziamo perché naturalmente più effetti aggiungiamo più potrebbe sembrare realistica quindi facciamo una cosa di questo tipo e poi una maschera sul viso ok fatto in questo modo andiamo a clicchiamo M sulla tastiera andiamo ad animare le maschere perché andiamo nel secondo fotogramma e le correggiamo in questo modo qui la prima è andata prendiamo la seconda andiamo a spostarla ok la posizione non deve essere per forza precisa perché questo parliamo di un lavoro comunque che dura soltanto un fotogramma quindi sarà difficilmente percepibile la misura allora per avere per renderci conto di come è predisposta la maschera aggiungiamo un colore di una sfumatura al nostro livello di regolazione così che vediamo esattamente cosa abbiamo creato con la maschera apriamo F sulla tastiera sul livello di regolazione andiamo a sfumare di parecchio le due maschere facciamo un 80 ed un 80 e andiamo adesso a modificare l'espansione tirandola un po' all'interno così ok facciamo quindi meno 25 e meno 25 anche l'altra adesso se andiamo a far play avremo questo risultato qui d'accordo qualcosa che compare sul viso e sulla mano del nostro personaggio in quel momento il momento dello sparo d'accordo adesso quello che dobbiamo andare a fare è eliminare la sfumatura naturalmente ed aggiungere un effetto di esposizione e in questo caso basterà aumentare l'esposizione perché quello che noi quello che accade è che ci sia una forte luce nel momento in cui vi sia lo sparo quindi andiamo a vedere il risultato finale ecco che il viso e la mano vengono illuminati nel momento in cui c'è l'esplosione quindi la fiammata accorgimenti che si possono adottare in una realizzazione così veloce forse è correggere leggermente le curve della nostra esplosione quindi andiamo ad applicare sul muscle flash un effetto di curve andiamo leggermente a lavorare sulle nostre curve per renderlo più omogeneo a quello che è l'immagine di background andiamo a modificare anche un pochino i caratteri alfa quindi dalle curve selezioniamo non rgp ma alfa così modificheremo soltanto il canale alfa andando a sfumare leggermente i neri ecco qui perfetto ed abbiamo ottenuto un effetto di difiammata dalla nostra pistola molto velocemente considerate che questo è un colpo d'arma da fuoco in quel video ne sono realizzati una decina tutti quanti con la stessa tecnica in poco meno di 30 minuti questo perché come vedete sono 4 livelli messi insieme è una tecnica molto veloce non è la migliore perché si potrebbe fare una cosa molto più avanzata scomponendo il carrello della pistola facendolo andare dietro e farlo tornare in avanti quindi per dare anche la sensazione che la pistola realmente stia sparando non serve aggiungere il proiettile perché il proiettile non è visibile ad occhio nudo in queste circostanze ma basta una semplice fiammata quindi cosa dirvi questo era un tutorial su come aggiungere un muzzle flash con una tecnica molto ma molto semplice e veloce ai vostri video spero che questo tutorial vi sia piaciuto noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video grazie a tutti